Ciao Iari, chi è venuta? Chi è venuta? Zia Imma! Zia Imma a portare dei pleddini, ma non i pleddini così, i pleddini proprio quelli là, quelli morbidi, caldi, nuovi, però non doveva perché avevamo detto usati, rotti. Comunque Iari va tanto d'accordo con Zia Imma, tanto che abbiamo pensato di lasciarla qui dentro. Siamo andate a cercare un po' di, guarda che amori che sono, ah è un dispenser piccolo per tagliare la piccola, ci sta, ma aspetta devo togliere questo coso e ti sei bagnato. Facciamo vedere Natale, ah aspettate, ci sono anche delle altre cose, questo è un pullover, posso fare l'intelligente per 5 minuti? Ok, stiamo cercando di tenere quanto più è possibile, degnitosamente, questi cani. E anche Zia Imma, ora facciamo vedere le copertine. Si vede meglio? Si vede meglio? Si vede? Si vede? Ciao Iari! Allora, c'è una piuma qua, ma che cos'è una piuma? Aspetta che dopo devo togliere il suo cappuccino che è bagnato. Allora, aspetta, aspetta, se tu mi chiudi dentro Imma, io poi non posso più fare... Allora, aspettate, voglio far vedere, perché a me piace fare vedere i regali. Guardate Zia Imma che ha portato, guardate, ti piace l'upa? Ti piace l'upa? Guarda, ho detto, Zia Imma, se devi portare i biscottini, non li portare tutti i piatti. Porta delle coperte rotte, ma io non ce le ho rotte, allora rompila. E invece bene, ha fatto ve l'altro, le ha comprate nuove, però dopo le mettiamo. Ah, un'altra cosa tanto più bella, guardate qua, guardate qua. Allora, a Natale, a Natale, si può fare di più. E aspetta che non so. E questo è grande perché questa è la suite dei vecchi. E poi guardate qua. E chiaramente Zia Imma che non soltanto le ha pagate lei, io le voglio dire perché devo essere giusta, se no mi prende i meriti che non sono miei. Io non le volevo fare pagare, ma lei mi ha minacciata. Allora, box numero uno. Box numero due. Questa è storta, però, Immo. Stanno a bocca? Box, tutto cinese, questo è un rifugio cinese. Box numero tre. Non abbiamo badato a Spice, non ha badato a Spice. E a box numero quattro. Quello inagibile, proprio nessuno ci pensa. Allora, vi piace, ma non è finita qua. Nella settimana prossima. Questi sono le tante cosine che ci ha portato una strega, una befanoide. Insomma, che non so neanche se posso dire. Io, vabbè, l'ho già ringraziato, ma non basta mai. E poi, prima di, voglio far vedere una cosa, sempre che non ci lascio il dito dentro. Raga, allora, qua non facciamo chiacchiere. Qua, quando diciamo una cosa, la facciamo. Allora, con la cortese, ma tantissima, cortese generosità, solidarietà, comprensione, collaborazione di Tiziana Serra del gruppo Battito di Cote, che ha portato delle mattonelle, che se anche diverse fra di loro, insomma, voglio dire, non ce ne può fregar di meno, perché è talmente, già soltanto che è un regalo e un pensiero, cioè, ci inchiniamo, almeno io con la lingua per terra, ed ecco già messe, nel senso che, ed ecco già messe, mi sembra, Imma, una, Imma, come sei bella sotto i fiocchi, mi sembra un albero di Natà. E guarda, Luca, come ti guarda. E il boss che sta lì a fare lo giro, ci bavone con Pimba. E qua, chi ci sta? Ciao, Iari. Ah, ci sta la ragnatela, ma ci diranno che abbiamo il rifugio con le ragnatele. Guarda, come ti guarda, forse gli ricordi qualcuno. Ah, ma lei non ti ha fatto rinca, col cattuscia. Questo è il... E non ti ha capito più, però, eh, questo così. Sì, ti fa cagare sotto, poi è la più un fanino. Vabbè, comunque, insomma, perché poi chiaramente noi taglieremo un po' di questo video esageratamente è noioso. Comunque, eh, che cosa ne pensate? Eh? È stato il boss. Riusciamo a fare gli altri, gli altri due, che sono inagibili, eh? Cioè, le foto, le cose, già vi... Con gli eventi, purtroppo, non si riesce. Bisognerebbe continuare a cementare anche sopra. Comunque, è importantissimo, perché... In effetti, qua dietro, no? Per chi non l'avesse mai visto, mai capito? Qua, in effetti, già funge da cuccia. Poi, a questo spessore qua, insomma, si vorrebbe mettere un compensato, in modo che comunque può essere una base di appoggio per i cani, che con la brandina, come gli altri, si possono mettere. A me piace il miso e il moccicerone, quando andavo qua dentro, cioè, alla fine... Va bene, comunque, qua si sta lavorando, qua si paga, però la cosa più importante è che ci fanno tanti regali, che ci fanno tanto piacere. Va bene? Va bene. Rispetto. Voglio farvi vedere anche un'altra cosa, perché quando io ricevo... Uè, coppe brandine... Uè, è coperta il... Ti sto stando 150... Non sbavare, è sbavoso. Maronna, bossi. Ha ragione, dai. Casa bossi... E casa lupa. E lui non viene? Sì, ma ce ne andiamo, aspetta. Ti riesco a dire, va un po'... Un po' di sozzimma. Ma giusto un poco di peli. Ciao lupa! Ciao lupa! Ciao lupa! Ciao lupa! Lupa, ma perché stai un po' scocciata in questi giorni, eh? Non preoccupare, che fra me che arriva l'altro di Natale. Vabbè. Grazie, zia, ma non lo sai che ti sto ringraziando, ma io lo faccio. Ciao! 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 Grazie.